ciao a tutti e benvenuti sul mio canale per chi mi segue già bentornati continuiamo con i video tutorial di pasqua oggi vi mostro come creare dei simpatici ferma tovaglioli appunto per la tavola di pasqua o per i vostri pranzi primaverili riprendo a questo punto un attimino un vecchio tutorial fatto l'anno scorso sempre su come creare dei ferma tovaglioli questa volta però con delle leggere variazioni sia in tema pasquale che in materiali utilizzati bene allora primo appunto vi faccio vedere allora vi ricordate il nostro simpatico coniglietto e gli ovetti realizzati nel precedente tutorial bene anche questi qui si possono utilizzare per legare il tovagliolo vi faccio vedere un attimino e poi partiamo invece con il tutorial vero e proprio ho preparato qui un tovagliolo di in tessuto semplicemente andiamo a prendere l'aceto che serviva per appendere il nostro coniglietto andiamo ad infilarlo sul tovagliolo ed ecco già qua una simpatica decorazione che tiene fermo appunto il tovagliolo che poi magari gli invitati possono portarsi a casa come un piccolo regalino e ecco una cosa simpatica stessa cosa si può appunto realizzare con gli ovetti bene bando alle ciance iniziamo subito sposto un attimo loro due allora prima cosa vi serve un po di juta altezza 13 centimetri quella bordata stirata rigida quindi che non si sfilaccia la lunghezza sto utilizzando circa un 25 centimetri logicamente poi la lunghezza è a scelta in base anche se utilizzate dei tovaglioli in stoffa che quindi sono un po più grossi oppure quelli di carta siccome comunque l'altezza è troppo alta l'andiamo a dividere in due quindi io l'ho piegata a metà in modo da riuscire ad andare il più dritto possibile andiamo a tagliarla e quindi con un pezzo ne escono due bene passiamo l'incollaggio per cercare appunto di creare il nostro fermo tovagliolo sposto un attimino queste cose qui in più quindi colla a caldo logicamente dovete sormontare l'aiuta in modo da poterla bloccare con la colla applichiamo attenzione adesso a non bruciarvi piccolo trucchetto se disponete delle classiche mollettine da bucato magari ve la tenete bloccata in questo modo finché la colla non fa presa benissimo intanto preparo ci saranno delle striscettine di velcro io ho già preparato il famoso cuniglietto sempre del video tutorial precedente ho applicato sul retro una bella striscia di velcro maschio e femmina ricordatevi sempre vi mostrerò anche poi perché è così lunga un attimino ecco penso che siamo pronti benissimo applichiamo anche sull'aiuta l'altro tipo di velcro insomma maschio e femmina sempre della stessa lunghezza sulla punto di giuntura quindi colla a caldo anche qui attenzione a non scottarvi perché l'aiuta è traforata benissimo andiamo a bloccare di nuovo con la mollettina bene praticamente allora logicamente il velcro è a scelta io lo sto utilizzando in modo che poi l'applicazione si possa ancora staccare quindi se volete realizzare una base unica e poi a seconda delle varie ricorrenze cambiare semplicemente l'adobbo superiore senza dover rifare sempre ogni volta tutto il giro fermo a tovagliolo altrimenti semplicissimo andate ad applicare la vostra decorazione direttamente sul giro tovagliolo bene ha fatto presa allora il senso di questa cosa era applicare il coniglietto tramite il velcro sul mio giro iuta per il tovagliolo in modo che esce una cosa di questo tipo perché mi piaceva l'idea non classica del tovagliolo arrotolato ma creare adesso vi mostro un rettangolino con il tovagliolo piegato ripiegarlo a metà e poi infilarlo in piedi in questo modo nel nostro portatovagliolo adesso spero che il mio tovagliolo non sia troppo pesante perché fatalità è gigante in una stoffa da mascata e magari non è proprio il caso di utilizzarlo senza piegarlo bene prima ecco qua ci dovremmo essere benissimo ecco questa era la mia idea di fermo a tovagliolo carino poi a parte il coniglietto si può usare anche gli ovetti quelli lì classici di pasqua benissimo seconda ipotesi invece ah dimenticavo se non vi piace questo modo qui basta semplicemente come prima arrotolare il tovagliolo infilarlo come di consueto spostare un attimino il coniglietto vediamo un attimo se riesco ecco che si è aperto anche il tovagliolo vabbè ma non importa e avete il classico effetto di fermo a tovagliolo insomma ecco cambia poco benissimo qui ci siamo adesso seconda ipotesi allora io ho già preparato un esempio vi mostrerò come creare questi simpatici fiori in juta e pannolenci anche qui ho già creato il mio fermo a tovagliolo in questo modo qui nota bene questi simpatici fiori lini poi ci serviranno anche nei prossimi tutorial per creare delle ghirlande di pasqua e tante altre cosette bene allora tanti di voi avranno già visto come si realizzano anche in un mio precedente tutorial credo di aver utilizzato questa tecnica per creare dei pistilli credo sui fiori quelli a petali a cuore comunque non importa vi faccio vedere come procedere eccoci qui allora ecco questa volta appunto ce la variate di utilizzare anche la juta invece del classico pannolenci allora vi serve un altro pezzo di juta questa volta 18 centimetri di lunghezza scusate sto leggendo il mio bigliettino mi sono un attimo incantata allora 18 centimetri per tutta l'altezza logicamente la andiamo a dividere a metà un attimo che vi mostro ecco qui l'ho semplicemente piegata e vado ad incollarmi ecco il fiorellino voleva essere in primo piano è anche caduto vado ad applicare un striscio di colla sul bordo anche qui attenzione a non scottarvi in modo da incollare mi aiuto con la mollettina se ne avete più di una meglio ecco qua faccio far presa un attimo perché sennò poi mi si scolla tutto nel frattempo vi mostro vi serve per il pistillo interno un pezzetto di panno lenci piccolino 10 centimetri per 7 10 di lunghezza 7 di altezza poi logicamente vi potete sbizzarrire e fare le misure che più vi piacciono più o meno grandi o piccole bene allora torniamo alla nostra aiuta procediamo con il taglio dobbiamo andare a tagliare delle striscioline ecco qui vi faccio vedere fine questa volta fino a dove sentite la colla più o meno a 3 quarti e la fate questa cosa per tutta la lunghezza più regolari saranno le striscioline ritagliate più regolare risulterà il fiore bene andate avanti praticamente e il risultato è questa cosa qui ecco qua mettiamo da parte facciamo la stessa cosa con il panno lenci quindi pieghiamo a metà incolliamo ecco qui che andiamo a fare gli stessi tagli sposto un attimo il vassoio che tende a fare confusione bene partiamo e tagliamo le striscioline più o meno regolare fino a dove sentite la colla quindi più o meno fino a 3 quarti questo è un fiore che si vede tantissimo su web quindi sicuramente l'avete già visto mi piaceva adesso l'idea appunto di sdoppiarlo con l'aiuta per dare proprio effetto Pasqua insomma ecco bene allora andiamo a fare prima il bocciolo quindi un po' di colla e andiamo ad arrotolare il nostro centro del fiore questa volta mettete la colla su tutta la lunghezza perché dopo essendo che dobbiamo incolarlo anche con l'aiuta deve stare fermo il bocciolo perché sennò si muove tutto benissimo adesso incolliamo il nostro bocciolo invece sulla seconda parte del nostro fiore ed andiamo a arrotolare anche questo eccoci qua colla su tutta la lunghezza in questo modo ed andiamo ad arrotolare spero che riuscite a vedere bene eccoci qua e facciamo far presa un attimino prima di aprire ecco poi logicamente questa è una versione mia con l'aiuta altrimenti potete benissimo anche farlo tutto con il panno lenci bicolore o anche tinta unita insomma non importa era un attimo per fare una cosa diversa benissimo allora prendo intanto vi serve uno stampino di una semplice foglia la misura più o meno è 9x2 cm e un piccolo tondino diametro 2,5 che servirà per fare appunto le foglie per fare il tondino che blocca sotto il fiore benissimo allora vi faccio vedere come realizzare le foglie fin tanto che la cola fa presa sul fioretto prendete una strisciolina di panno lenci lo pieghiamo a metà come al solito applichiamo la forma della foglia in questo modo ed andiamo a ritagliare mi raccomando la parte chiusa verso il basso in modo che con un taglio otterrete già due foglie unite al centro quindi saranno simmetriche e si potrà fare la piegatura in modo che prendino un po' di forma benissimo eccole qua bene vi faccio vedere come piegare le foglie finché tanto lì la colla sta lavorando diciamo così allora la dovete piegare in questo modo quindi al centro un goccio di colla ecco qui questo ci serve per far sì che la foglia ecco vedete prenda un po' di arrotondamento se no è proprio piatta piatta secondo passaggio dobbiamo unirle in questo modo qui sempre goccio di colla ecco poi queste foglioline vi vanno bene per tante altre cose insomma ecco se create fiori ghirlande o decorazioni centri tavola sono semplicissime da realizzare potete poi farle con il panno stampato come in questo caso tinta unita piccole grandi ecco benissimo le foglie sono pronte allora poi io ho già preparato anche il mio tondino ecco logicamente lo potete fare verde come le foglie oppure anche della tinta dell'aiuto insomma non importa benissimo andiamo ad aprire per benino il nostro fiore che adesso la colla ha fatto presa e abbiamo creato più o meno la nostra specie di margheritina come nell'esempio di prima vado ad applicare il tondino in questo modo per chiudere appunto questa specie di buchetto che si va a creare tra l'aiuta e del panno lenci incollo ecco qua e vado ad anche applicarmi le foglie che andrò ad incollare da un lato in questo modo che dia questo specie di effetto qui allora colla e ci siamo ecco qua facciamo far presa poi io nel mio esempio avevo già preparato il legato vagliolo che anche in questo caso è semplicissimo facciamo riposare un attimo lì il fiore ve lo mostro di nuovo praticamente io ho preso un giro di feltro 3 mm in questo caso qui e ho applicato sopra il mio fiore ecco l'unico nota bene che vi dico con il fiore evitate secondo me il velcro perché essendo abbastanza grandino il fiore un po' pesantuccio con l'aiuta attacca stacca col velcro eviterai ecco piuttosto se invece non vi piace il discorso del legato vagliolo è molto carino anche posizionare semplicemente il fiore magari poi facendoci appunto la base meglio perché qui adesso è solo come esempio come segna posto vicino al bicchiere magari ecco benissimo allora io ho preparato già una strisciolina di feltro questo qui è 19 cm per circa 3 di altezza lo andiamo ad incollare su se stesso per creare questa specie di braccialetto eccoci qui e poi su questo possiamo andare ad incollare il nostro fiore e creare il nostro legato vagliolo ecco qua vado a mettere la colla in questo modo e poi l'ultimo magari aprite ancora un pochettino l'aiuta ecco visto che è un po' rigidina poi prenderà la forma insomma ecco bene aspettiamo un attimo che fa presa e io direi che ho finito spero che vi sia piaciuta la mia idea del legato vagliolo di questi fiori sdoppiati con l'aiuta e anche del richiamo con il coniglietto che magari è sempre carino visto che si sta avvicinando alla Pasqua ecco niente grazie per aver guardato il video vi auguro buon lavoro e alla prossima ciao a tutti